direi che possiamo iniziare perché vi vedo tutti belli attenti e belli curiosi e quindi chiamo qua sul palco romina congera grazie paolo grazie a tutte e a tutti non vi nego moltissima emozione perché dopo la festa del 3 agosto di progress a nuoro oggi essere a cagliari è per me bellissimo perché è una cosa personale questa io a cagliari quattro anni fa conclusi la mia attività politica e oggi grazie a qualcuno anzi qualcuna posso riprendere a farla con grandissima passione con grandissimo entusiasmo quindi se da una parte per una legge di compensazione se da una parte qualcuno mi aveva diciamo così fatto perdere la voglia e la passione di farne oggi invece sono contentissima di farlo con tutte le persone che sono qui a fianco a me dietro davanti tutti tutti quanti voi quindi un grazie di cuore per questo detto questo che non si dice mai detto questo perché è brutto però io adesso mi scuso per averlo detto allora io rappresento la lista civica sarò candidata nella nella lista di di cagliari e sono la coordinatrice di questa lista la lista civica è un supporto importantissimo per la coalizione di sardegna possibile perché ha come obiettivo quello di essere maggiormente rappresentativa di tutta la società di quella che comunemente viene chiamata società civile mi permetterete di dire che a me è un termine ugualmente che non piace società civile quasi come se ce ne fosse un'altra da un'altra parte di società incivile la società civile è composta da persone che in maniera eterogenea possono essere moralmente insindacabili oppure oneste e disoneste leali o sleali la società civile è formata di persone la lista civica deve essere rappresentativa di persone e sardegna possibile sta lavorando affinché la lista civica sia composta da persone che hanno voglia che hanno entusiasmo che hanno grandissima capacità di mettersi in gioco e di mettersi a lavorare per cercare di costruire qualcosa di nuovo per cercare di costruire la sardegna possibile appunto io credo che la sardegna così come ce l'hanno fatta pensare fino ad oggi debba completamente rivoltare la faccia la sardegna che è stata definita sempre debole una sardegna che necessariamente deve dipendere da altri deve dipendere da decisioni altrui deve sempre contrattare con la forza di altre regioni decisamente più forti di noi io credo che la debolezza intrinseca di cui ci parlano sia in realtà una forza e penso che se noi tutti insieme noi forse non indipendentiste come me insieme a queste bellissime persone che sto conoscendo indipendentiste con un approccio alla gestione amministrativa istituzionale dell'isola che tende a valorizzarla a far sì che la forza possa essere nella sua agricoltura nella sua conoscenza nella sua cultura a fare in modo che in una società come quella che viviamo oggi in cui si parla sempre di disoccupazione giovanile a livelli allucinanti è vero ma al contempo quante volte ci soffermiamo a pensare se non lo viviamo di quanti genitori ci sono disoccupati di figli disoccupati che non pensano a far andare il proprio figlio a scuola perché devono pensare a che cosa portare sulla tavola questo è per me significativo di società incivile ed è questo che io voglio combattere insieme a tutte le persone che vorranno aderire alla nostra coalizione a sardegna possibile penso che le possibilità ci siano e lo dico faccio una sorta così di considerazione molto molto personale a chi non è indipendentista come me badate bene che il concetto che io sposo e prendo in prestito di michela della non dipendenza è quello che vogliamo portare avanti siamo tutti stufi di sentire di dover dipendere da decisioni teleguidate etero dirette da altri per me questo è il concetto di indipendenza che voglio portare avanti una non dipendenza economica una non dipendenza finanziaria credere di più in noi credere nelle capacità nella forza della nostra isola delle nostre mani e delle nostre menti ce ne sono tante basta che ci mettiamo tutti insieme questo è l'augurio che io faccio alla nostra sardegna possibile questo è l'augurio che faccio a tutti voi vedendovi perché è di una bellezza disarmante quindi tutti insieme per cercare di riuscire a creare una sardegna che sia veramente più dinamica più forte più sarda grazie grazie a tutti